Nuove la caravana, ci siamo, 8 chilometri, voglio ufficiare, eccoli, eccoli, vado già a momento, il 192 periodini, le 190... 1 equipa. il palio internazionale under 23 del rezzo 8 di Negrar facciamoci sentire pubblico e non ti muovi da questa posizione bello 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 Mi sento abbastanza bene, i miei amici erano fantastici in la scuola, erano solo in attacca i ultimi 40 km, ho fatto un buon lavoro con Sleschel, è davvero forte, andiamo insieme per la linea finissima, e ho fatto più velocemente.